Ciao a tutti, oggi prepareremo i bidoni senza lievito. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono farina di semola, farina di tipo manitoba, acqua, olio evo, zucchero, sale, indiviariccia, pomodorini, acciughe e provola. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e lo zucchero ed azioniamo il bimbi per un minuto, 37 gradi, velocità 2. Aggiungere la farina di semola, la farina di tipo manitoba, l'olio e li facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire su un piano di lavoro, coprire con un canovaccio e far riposare per 10 minuti. Trascorso il tempo, dividere l'impasto in panetti da 100 grammi ciascuno. Stendere ogni panetto con il mattarello. Mettere l'acciuva in diviariccia che abbiamo condito con olio, sale e pepe, qualche pomodorino e il formaggio. chiudere sigillando bene i bordi ritagliare la pasta in eccesso e continuare così per tutto il resto dell'impasto. una volta formati tutti i pidoni, friggere in abbondante olio caldo fino a doratura. pidoni senza lievito grazie e alla prossima ricetta a 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